Io, Signore, sarò più bianco della neve. Pietà di me, Dio nel mondo, nel tuo affetto canceva il mio mercato. e la famiglia un'unità, 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 un'unità. Odile il mio mercato, tre maldacaktori. Amen. Poi to spirito. Poi to spirito. Compressa. Compressa. la parola e l'opera di Dio Signore, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E subito, abbiate sempre per te, Maria, gli altri pensanti, i tuoi fratelli, e pregare per noi, il Signore di Dio Signore. Poi, credo, per noi, i nostri ricicchi, e si comunica il Presidente della vita, Signore di Pietà, Cristo Pietà, Signore di Pietà. Prendiamo. e Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.